Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo con le formule trigonometriche. In particolar modo vediamo le formule di duplicazione. Ma che cosa sono queste formule di duplicazione? Queste permettono di calcolare il seno, il coseno, la tangente e la cotangente del doppio di un angolo. Ovvero, se noi ad esempio abbiamo un angolo alfa e eventualmente abbiamo queste funzioni trigonometriche, quindi seno, coseno, tangente e cotangente di, ad esempio, 2alfa, quindi il doppio di un angolo alfa generico, allora possiamo, tramite queste formule trigonometriche, calcolare effettivamente quanto vale quella funzione. Infatti, in questa lezione che oggi vediamo, quindi in questo video, vedremo proprio le funzioni di duplicazione del seno, coseno e la tangente. Partiamo con un esempio, ovvero il seno di 2alfa, ricordiamoci che è totalmente diverso dal 2seno di alfa. Quindi, per capirci, il seno di 2alfa non si può scrivere come 2seno di alfa, quindi sono due cose totalmente diverse. Stessa cosa del coseno di 2alfa. Non è la stessa cosa se noi, ad esempio, avessimo 2 per coseno di alfa, oppure tangente di 2alfa è diverso da 2 tangente di alfa. Quindi, il 2, quando si trova all'interno della parentesi tonno, ovvero che abbiamo il doppio dell'angolo, è totalmente diverso se noi, ad esempio, il 2 lo avessimo davanti alla nostra funzione, quindi davanti al seno, davanti al coseno o davanti alla tangente. Quindi, tornando all'esercizio, il seno di 2alfa, come abbiamo detto, è diverso se avessimo 2seno di alfa. Infatti, se noi prendessimo alfa, ovvero 30 gradi, sappiamo che il seno di 30 gradi vale proprio un mezzo, ma se noi andassimo a moltiplicare 2 per alfa, quindi invece di avere 30 gradi, abbiamo 2 per 30, ovvero 60 gradi. Quindi, il seno di 2alfa è uguale a radice di 3 fratto 2. Quindi, abbiamo che il seno di 2alfa è proprio uguale al seno di 60 gradi, ovvero radice di 3 fratto 2. E questo, come abbiamo detto, è diverso da avere 2seno di alfa, perché 2seno di alfa è come se fosse 2 per il seno di 30 gradi. Il seno di 30 gradi, abbiamo detto, è un mezzo, quindi è 2 per un mezzo, ovvero 1. Quindi, sicuramente, radice di 3 fratto 2 è totalmente diverso da 1. Quindi, non dobbiamo confondere le due cose. Una volta, cioè, se il 2 si trova vicino all'angolo, quindi all'interno della parentesi tonda, allora stiamo parlando delle formule di duplicazione, perché l'angolo è duplicato. Mentre se il 2 si trova davanti alla nostra funzione, allora quello si svolge in un altro modo, ovvero come abbiamo fatto sempre finora. Capiamo, però, le formule, come effettivamente si possono scrivere. Quindi, la formula di duplicazione del seno, ovvero seno di 2alfa, lo si può scrivere anche come 2 per il seno di alfa per il coseno di alfa. Invece, se noi volessimo prendere la formula di duplicazione del coseno, quindi il coseno di 2alfa, questo ha tre possibili modalità in cui si può risolvere. Quindi, per quanto riguarda il seno, abbiamo solo una risoluzione, quindi dovete imparare solo quella determinata formula. Invece, per il coseno di 2alfa, quindi quando vogliamo applicare la formula di duplicazione del coseno, potete ricordare queste tre equazioni, diciamo, quindi queste tre formule. ovvero, il coseno di 2alfa è uguale al coseno al quadrato di alfa meno seno al quadrato di alfa, oppure 1 meno 2 seno di alfa al quadrato, oppure 2 coseno al quadrato di alfa meno 1. Queste tre formule sono del tutto equivalenti, e quindi, in base al contesto, quindi in base all'esercizio che vi viene dato, potete utilizzare l'una oppure un'altra. Ovviamente, se ad esempio voi avete tutto in funzione del seno, potete utilizzare ad esempio la seconda, in modo tale che il coseno lo sviluppate, lo riscrivete sotto forma del seno, e questo vi può aiutare ad esempio nell'esercizio che vi viene proposto. Oppure, se invece avete tutto in funzione del coseno, potete utilizzare la terza. Ovviamente, come dicevo prima, questo dipende sempre dal contesto e quindi dall'esercizio che vi viene proposto. Poi, ovviamente, in altri video andremo a vedere sia la dimostrazione di queste formule, ma anche esercizi più pratici. Quindi, ovviamente, ora stiamo dando giusto una panoramica di che cosa sono queste formule di duplicazione, e poi le andremo a vedere tutte nel dettaglio, così capite effettivamente meglio come poter applicare queste formule. E infine, vi è appunto la formula di duplicazione della tangente. La tangente di 2α è uguale a un rapporto, ovvero al numeratore abbiamo 2 tangenti di α, al denominatore 1 meno tangente al quadrato di α. Essendo un rapporto, ricordatevi sempre che il denominatore deve essere diverso da 0, quindi dobbiamo trovare quell'angolo che mi consenta di non eliminare, quindi di non annullare il denominatore, altrimenti questa formula non avrà senso. Infatti, l'alpha lo prendiamo proprio che deve essere diverso da 45 gradi più k per 90 gradi, ovvero pi greco quarti più k pi greco mezzi. E poi, alfa deve essere anche diverso da pi greco mezzi più k pi greco, oppure da 90 gradi più k per 180 gradi. Come dicevo prima, affinché la nostra formula di duplicazione, quindi della tangente, possa essere verificata, bisogna soddisfare le determinate condizioni di esistenza. Tali condizioni si ricavano direttamente, appunto, risolvendo questo sistema, che è un po' quello che abbiamo visto prima, perché abbiamo due alfa che deve essere diverso da pi greco mezzi più k pi greco, ovvero, se il 2 lo portassimo a destra, è come se noi avessimo detto che alfa deve essere diverso da pi greco quarti, quindi 45 gradi, più k pi greco mezzi, quindi più k per 90 gradi. È quello che abbiamo scritto prima. Inoltre, alfa deve essere anche diverso da pi greco mezzi più k pi greco. Anche questo l'abbiamo definito prima, perché abbiamo detto che alfa doveva essere diverso da 90 gradi più k 180 gradi. Al tempo stesso, però, dobbiamo prendere anche tutto il denominatore, ovvero tutto il denominatore deve essere diverso da zero, quindi 1 meno tangente al quadrato di alfa deve essere diverso da zero. Quindi, risolvendo questo sistema, possiamo ricavare le condizioni affinché la formula di duplicazione della tangente sia soddisfatta e sia veritiera, quindi che abbia proprio un senso. Ovviamente, dalle formule di duplicazione che abbiamo visto finora, possiamo ricavare anche quella della cotangente, della secante e della cosecante. Quindi, vediamo giusto queste ultime formule e poi terminiamo. Ricordiamoci che la tangente, ad esempio, di 2 alfa, lo possiamo scrivere anche come rapporto tra seno fratto coseno. Quindi, la cotangente di 2 alfa, che noi sappiamo essere il reciproco della tangente, quindi la funzione inversa, è proprio uguale al coseno di 2 alfa fratto il seno di 2 alfa, ovvero è proprio uguale a 1 fratto la tangente di 2 alfa. Stessa cosa anche per la secante e la cosecante, perché la secante è proprio uguale a 1 fratto il coseno di 2 alfa. Coseno di 2 alfa già l'abbiamo visto prima come si scrive, quindi lo andate a sostituire all'interno di questa formula. Invece, la cosecante di 2 alfa è uguale a 1 fratto il seno di 2 alfa. Anche il seno di 2 alfa lo abbiamo calcolato e lo sostituite qua sopra. Quindi, sicuramente cotangente, secante e cosecante lo potete ricavare ricordando semplicemente le formule della tangente, del seno e del coseno. Bene, quindi, come abbiamo detto, oggi abbiamo visto giusto una panoramica di che cosa sono le formule di duplicazione. Poi successivamente andremo a vedere sia la relativa dimostrazione che un esercizio pratico. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!